Sì, domani cercherò il signore, andrò da lui, andrò a trovarlo personalmente per conoscere bene come sono andati i fatti e nell'occasione restituirò al cittadino di tasca mia l'importo della multa pagata. In merito al comportamento del vigile? Con il vigile non ho ancora potuto parlare perché il vigile è in impermesso e quindi non ho ancora avuto modo di parlarci, parlerò sicuramente con lui prima e poi con il vigile dopo appena ci sarà la possibilità, tra qualche giorno, domani, dopo domani, quando rientrerà. Lui come giudica, sindaco, il comportamento del vigile? Il comportamento del vigile lo considero particolarmente zelante, in questo caso forse è eccessivo e a quanto credo anche un po' inopportuno.